È entrato nelle loro camere con l'intenzione di concludere un rapporto sessuale, ma le giovani colleghe hanno posto resistenza constringendolo ad esistere e poi hanno denunciato gli episodi ai carabinieri. Guai grossi per un lavoratore stagionale di 21 anni di origini albanesi, fermato domenica sera a Bibione con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane, impiegato in un albergo della nota località Balneare, in un caso avrebbe prima spiato la collega diciottenne, intenta farsi la doccia e successivamente le avrebbe riversato addosso attenzioni morbose al punto da costringere la ragazza ad urlare per chiedere aiuto. Sabato scorso, con il medesimo modus operandi, le attenzioni del 21enne si sarebbero riversate su un'altra giovane che lavora nella stessa struttura. Il ragazzo si sarebbe spinto oltre gli apprezzamenti, palpeggiando e molestando pesantemente le due ragazze con la chiara intenzione di avere un rapporto. La denuncia ai carabinieri ha fatto scattare immediatamente le indagini risolte nel giro di poche ore. I militari hanno rintracciato il 21enne domenica sera. Il giovane è stato posto in stato di fermo di polizia giudiziaria per le ipotesi di violenza sessuale e dopo le formalità di rito è stato accompagnato in carcere a disposizione della magistratura.